Gli ospedali sono al collasso anche a Napoli, ambulanze in fila, ma anche tante auto in coda con persone a bordo che attendono di essere accolte dal medico di turno. Il Cotugno di Napoli, struttura dedicata al Covid, riesce a malapena a smaltire i pazienti che arrivano nel pronto soccorso. Si entra al massimo in 15, ma dopo il controllo l'ammalato di Covid dovrebbe essere trasferito in reparto. Il condizionale è d'obbligo perché non è detto che nel reparto ci sia un posto letto disponibile. Così il malato resta ricoverato nel pronto soccorso occupando un letto che servirebbe per l'emergenza. Quasi tutti quelli che si presentano sono già segnalati, passati già per il cosiddetto triage, il più delle volte pazienti già ricoverati a casa e che poi arrivano in ospedale perché peggiorano i sintomi e si preoccupano. Il grido d'allarme viene da Maurizio Di Mauro, direttore generale degli ospedali dei Colli, quindi anche del Cotugno. Ha contratto il Covid ed ora sta bene. Stiamo facendo l'impossibile assistendo i malati fin dentro le auto e le ambulanze in fila, dice. Il personale sta facendo sforzi sovrumani, ma siamo al limite e rivolge un appello a tutti. Chiamate il medico di famiglia prima di andare in ospedale. Un appello condiviso dal responsabile del 118 che ne aggiunge un altro, riguarda i pazienti con patologie pregresse e che ora hanno contratto pure il Covid. Un esempio su tutti, quello dei dializzati. Queste persone, una volta colpite dal Covid, rimangono con le loro patologie pregresse, quindi bisogna che l'assistenza sia un'assistenza integrata. Covid è sulla patologia pregressa. Una di queste sono i pazienti dializzati, i cromici, che devono continuare a fare la dialisi e che molte volte Covid positivi devono continuare a fare le loro dialisi, ma in centri Covid dedicati. Quindi è un problema su un altro problema.